I primi briganti ieri mi hanno arrestato in una cella oscura, mi hanno portato. Allora di piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte. E quando mi portarono alla tortura, legandomi le mani all'ardia, legate pure e forte. E quando mi portarono a la casa, mi portarono a la sua, mi portarono a la sua, mi portarono a la sua. E quando mi portarono al tribunale, dicendo se conosco il mio gugnare, se si che non conosco, hai il manico conto, nel cuore fascisti, perché c'hai avuto. E quando mi portarono al tribunale, dicendo se conosco il mio compagno, se si che non conosco, ma non dirò chi sia, io sono un partigiano, non una sfida. E quando la genezione fu preparata, fucili e ritragli, erano incontrati, non si sentiva i furti e i colpi di piccaglia, ma si sentiva un grido di malattia. Non si sentiva i furti e i colpi di piccaglia, ma si sentiva un grido di malattia. Non si sentiva i furti e i colpi di piccaglia, non si sentiva i furti e i colpi di piccaglia. Grazie.